Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Paola Barale ha finalmente svelato con chi è stata tradita da Ratz Degan, dopo tanti anni dalla fine della loro storia d'amore. In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex showgirl ha rivelato che l'attrice Kasia Smutniak è stata l'amante del modello, causando così la rottura della loro relazione durata dal 2002 al 2015. Barale ha confessato di aver perdonato in passato, ma di aver poi scoperto che Ratz Degan era ricaduto nello stesso errore, costringendola a lasciarlo nonostante fosse ancora innamorata. Il tradimento è stato un duro colpo per l'ex showgirl, che non ha più ufficializzato una relazione dopo quel momento. Quando le è stato chiesto se crede ancora nell'amore, Paola Barale ha ammesso di essere scettica e diffidente nei confronti degli uomini, temendo di essere ingannata nuovamente. Nonostante ciò, la speranza di incontrare l'uomo della sua vita è ancora viva, anche se non si mette attivamente alla ricerca. La confessione di Paola Barale ha suscitato grande interesse nel pubblico, che ha seguito con curiosità i dettagli della sua storia con Ratz Degan e il tradimento che ha segnato la fine della loro relazione. La rivelazione dell'identità dell'amante ha aggiunto un nuovo capitolo a questa vicenda, che ha tenuto banco.